La legge di Ivan Zaitsev, l'ex porta Modena alla quinta semifinale Scudetto, che dice Ivan Zaitsev? Ma la legge, non è mia la legge, è la legge del Palapanini che questa sera ci ha dato una grandissima mano per la seconda volta consecutiva ad allungare la serie e quindi ci andiamo a giocare tutto per tutto in gara 5. Come sarà per Ivan Zaitsev tornare a Perugia? Come lo è stato nelle passate occasioni, è sempre un campo molto difficile in cui giocare, è un campo molto caldo, l'avversario e i ragazzi sicuramente si giocheranno il tutto per tutto perché mi ricordo benissimo che anche l'anno scorso andò così, sarà una partita facile ma ci avremo trovato. Non è da tutti i giorni dare un 3-0 a Perugia e Modena ce l'ha fatta? Quando acquisti consapevolezza, quando prendi anche gusto a giocare, quando ti rendi conto che stai sul pezzo, va quasi in automatico, è un'inerzia, è un godimento generale che si crea e stasera lo è stato. Il pubblico che hai visto questa sera qui al Palapanini lo ritroverai al Palabarton, la forza di queste grandi tifoserie? Sì, sicuramente, sicuramente. Il nostro tipo sarà un po' più silenziato secondo me, visto il numero preponderante dei Perugini che troveremo giocando in casa loro, però sicuramente cercheremo di dargli una gioia perché se la meritano. Zeiser come sta? Stasera bene, stasera molto bene.